Poco dopo le ore 16 di martedì 9 luglio, un treno merci presso la stazione di San Severino di Centola è uscito dai binari provocando ingenti danni alla banchina in direzione nord. Senza alcuna grave conseguenza per il personale di bordo e pochi presenti in stazione al momento dell'incidente. Tuttavia l'impatto ha provocato significativi disagi al traffico ferroviario, con numerosi treni cancellati sulla tratta che collega il Cilento a Napoli. Le autorità ferroviarie hanno immediatamente avviato un'indagine per determinare le cause precise. Una delle ipotesi principali è che il peso eccessivo dei container abbia giocato un ruolo cruciale nell'incidente. Non si esclude però la possibilità che i recenti lavori di manutenzione effettuati sui binari possano aver contribuito al verificarsi del sinistro. Una tragedia sfiorata ha dichiarato l'avvocato Bartolomeo Lanzara presidente del Codacons Cilento. In una nota diramata in data odierna dove ha voluto approfondire quanto accaduto. Da quello che abbiamo riscontrato è che la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo in cui pare che le responsabilità siano dovute ad alcuni container pesanti e a dei lavori in corso che erano stati eseguiti su quella tratta. Noi riteniamo che la Procura debba approfondire anche il discorso della velocità e quindi delle misure di sicurezza della tratta che va da Battipaglia a Sacri. Assicurare i cittadini e i turisti che in questo momento stanno affollando le nostre località turistiche. Nei prossimi giorni noi invieremo una diffida a RFI in cui chiederemo i dettagli di quello che è accaduto per capire anche le misure di sicurezza prese o da prendere su questa tratta che è di fondamentale importanza per lo sviluppo socio-economico della nostra area sud della provincia di Salerno.